La messa in sicurezza della discarica procede speditamente, così come le procedure che consentiranno l'avvio della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale tranese. Si dice soddisfatto dell'operato di AMIU, l'amministratore unico Alessandro Guadagnuolo, fiducioso che i complessi obiettivi che l'azienda di igiene urbana è chiamata a centrare nei prossimi mesi saranno raggiunti. Stiamo continuando le operazioni messe in sicurezza della discarica ininterrottamente a seguito dell'ordinanza sindacale. Per quanto riguarda le analisi sono confortanti e continuano comunque a confortarci, quindi speriamo di essere usciti dalla fase più critica. E' chiaro che è necessario comunque poi completare le ulteriori procedure di caratterizzazione ed eventuali analisi di rischio e bonifica. Questo lo sapremo soltanto a seguito dell'esecuzione del piano di caratterizzazione che è in fase di avviamento. Possiamo stimare dei tempi? I tempi per quanto riguarda il piano di caratterizzazione è gestito dal Comune di Trani, direttamente dal Comune di Trani, però io ritengo che andranno via almeno un paio di mesi prima di riuscire ad avere delle informazioni utili per poter comprendere l'andamento dell'inquinamento al di fuori della discarica. Al termine di queste operazioni la discarica potrebbe anche riaprire? La discarica può riaprire, tecnicamente può riaprire, non al termine di queste operazioni, ma al termine proprio delle operazioni di messe in sicurezza e di chiusura definitiva dei tre lotti di discarica. Quindi da una parte sicuramente la chiusura dei tre lotti della discarica, dall'altra la conclusione delle operazioni di caratterizzazione, quindi del procedimento di caratterizzazione, di bonifica della discarica. Sicuramente sì, tecnicamente può riaprire. Cosa manca per vedere la raccolta differenziata porta a porta estisa su tutto il territorio di Trani? Non manca più nulla, abbiamo tutti gli strumenti, stiamo già operando, abbiamo già avviato tutto quello che è necessario avviare preliminarmente per poter acquisire, già programmare l'acquisizione di mezzi, attrezzature, insomma tutto quello che serve per poter avviare la raccolta differenziata. Spero di riuscire a programmare il tutto per chiudere il 100% della copertura del comune di Trani, del territorio comunale di Trani entro il 2018. Bilanci in attivo e nuovi progetti per il futuro certificherebbero il buono stato di salute dell'azienda? Sicuramente uno stato di salute è più forte che mai. È una società assolutamente ricapitalizzata, patrimonializzata. Chiudiamo, abbiamo chiuso il 2016 in attivo, il 2017 altrettanto in attivo con eccellenti risultati. Ormai è fuori dal guato.